Buongiorno e benvenuti alla prima edizione di Ora Tg, una notte di ferragosto di sangue sulle strade siciliane, in particolare c'è stato uno scontro terribile sulla modica Pozzallo la notte scorsa a scontrarsi un'auto ed una moto, un'onda SH, un ventenne, uno dei tre coinvolti nel sinistro si trova ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Cannizzaro di Catania, gli sono stati amputati il braccio e la gamba sinistra, si è scoperto che i conducenti dei due mezzi coinvolti avevano assunto alcol e si erano poi messi alla guida, vediamo il servizio. Le analisi hanno già confermato che i due conducenti, quello della Lancia Y di 40 anni e l'altro a bordo di uno scooter di 22 che la notte scorsa si sono scontrati sulla strada provinciale 66 modica Pozzallo, avevano fatto uso di alcol e adesso il passeggero del mezzo a due ruote, un ragazzo di soli vent'anni, si trova in condizioni gravissime ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania con un braccio e la gamba sinistra amputati. Qui è arrivato in elisoccorso, ferragosto di sangue sulle strade siciliane a Ragusa a pochi passi dalla strada statale 194. Anche il ragazzo che guidava l'onda SH, suo coetaneo di Pozzallo è grave, per lui il ricovero all'ospedale maggiore di Modica. Ha riportato una frattura esposta al braccio, una frattura della mandibola ed un serio trauma facciale. Per lui l'intervento in giornata nel nosocomio dove è stato curato per lesioni decisamente più lievi, anche colui che era a bordo dell'utilitaria. Alla base del sinistro pare ci sia stata una manovra azzardata del motociclo, un sorpasso non consentito ma effettuato lo stesso. Per entrambi i conducenti adesso il deferimento a piedi libero per lesioni personali colpose gravissime, sicurezza sulle strade minata dalle imprudenze in una delle notti più caotiche dell'anno, durante la quale c'è chi pur avendo fatto uso di sostanze stupefacenti o alcolici si mette in auto in moto rischiando la propria vita e mettendo in pericolo anche quella degli altri. L'impatto violentissimo, i ragazzi sbalzati dal mezzo a due ruote, gli inquirenti adesso stanno cercando di ricostruire passo passo cosa sia accaduto poco prima dell'una e mezza. I tre feriti sono amici e questo fa supporre che viaggiando nella stessa direzione si alternassero nei sorpassi a distanza ravvicinata. E' tanto spavento e ore di apprensione sempre la notte scorsa a Fondachello, siamo sul litorale del comune di Mascheli tra Fondachello e Sant'Anna, all'interno di un lido della spiaggia dove un ragazzino di 14 anni ha fatto perdere le sue tracce, in un primo momento si è scatenato il panico, si sono avviate le ricerche ed è stato ritrovato alle prime luci dell'alba in un boschetto, si era addormentato. Sentiamo il servizio di Melo Nicodemo. Tanta paura, tanta apprensione, fortunatamente conclusesi al meglio. Intorno all'1.30 della notte scorsa a Fondachello si è sparsa la voce che era scompasso un 14enne di nome Leonardo. La notizia si è sparsa in un baleno e i responsabili dei lidi hanno iniziato a comunicare tra di loro per conoscere gli esatti termini della situazione e vedere come poter intervenire. Allertati i carabinieri subito accorsi hanno imposto lo spegnimento della musica trasmessa in questa particolare notte dove l'euforia spesso fa perdere i contorni della razionalità e si sono messi alla ricerca del ragazzo. Infine, alle prime luci dell'alba si è scoperto che il minorenne si era allontanato dal posto in cui si trovava con gli amici per andare in un vicino boschetto e lì si era addormentato. L'episodio ha in parte scombussolato lo svolgimento delle numerose manifestazioni. I gestori vorrebbero una maggiore presenza da parte dei genitori in queste occasioni dove nella frenesia del momento può accadere di tutto, principalmente l'abuso degli alcolici nella minore età, abuso confermatoci dai vigili urbani di Mascali i quali hanno operato sino a notte forte. Come tutte le notte di ferragosto sono notte selvagge. Abbiamo aiuto né della capitaniera di Porto, né dei vigili urbani, né dei carabinieri. Ogni ferragosto c'è sempre qualcuno che si litiga, si fanno a botte, si ubriaco, ma la colpa principalmente io la do ai papà che lasciano i loro ragazzi da 10, 12, 14 anni in giro a dormire nelle tende. Ora stanotte verso le 3 sono arrivate delle battuglie dei carabinieri che cercavano un ragazzo che dice che si era smarito, non lo so, che poi fortunatamente si è trovato. Però ripeto a dire, cari papà, io sono pure un papà, non lasciate i bambini, dovete venire qua la notte quando li lasciate e li trovate l'80% tutti ubriachi. C'è stato un vasto incendio questa mattina che ha interessato la zona di Catania Sud, in particolare quella adiacente al cimitero inglese. Il fumo si è propagato in alto lambendo anche lo spazio aereo che appunto viene utilizzato dagli aeroplani in da e per la città di Catania. Vediamo il servizio che è stato curato per noi da Mario Grasso. Inferno di fuoco oggi a Catania. In fumo ettari ed ettari di terreno, oltre ad un paio di casolari, nel quadrilatero compreso tra Zia Lisa, il cimitero inglese, l'asse dei servizi, la strada statale 192. Poco dopo le 11, in men che non si dica, le fiamme si sono propagate su più versanti, alimentate dal vento e dalla vegetazione. Combustibili questi che hanno messo a dura prova la professionalità di vigili del fuoco, corpo forestale e polizia dello Stato, che hanno lavorato ininterrottamente per circoscrivere i roghi. Il fumo denso e nero ha più volte affiancato la rotta di avvicinamento della pista dell'aeroporto di Catania. Con gli aerei che, come si vede dalle immagini, a volte si sono immersi persino nella coltre, sebbene tutte le manovre siano state eseguite in massima sicurezza. Per raggiungere i roghi, i vigili del fuoco hanno dovuto aprire varchi provvisori sia nelle piccole strade sterate della zona che rompendo i lucchetti degli accessi poderali. Dall'alto, le squadre terrestri sono state supportate da un elicottero con l'obiettivo di ridurre il fronte del fuoco, che intorno a mezzogiorno ha avvolto anche un paio di casolari. Con il passare delle ore, l'incendio si è spostato verso sud, con il risultato che sia l'asse dei servizi che parte della tangenziale a oeste di Catania sono state attraversate dal fumo. Diverse le squadre dei pompieri, ma anche del corpo forestale, che sono confluite lungo le varie strade per bloccare le fiamme, che hanno avvolto diversi alberi, oltre che creare problemi alle linee elettriche e ai passaggi d'acqua. Molti gli automobilisti che impauriti hanno chiamato il centralino dei vigili del fuoco per segnalare l'incendio, di cui bisognerà accertare anche l'origine, se accidentale, causa questa che sembra essere però poco probabile, oppure voluta, quindi generata da un innesco, e che se così fosse ha intenzionalmente provocato danni enormi, mettendo a rischio il patrimonio ambientale, la fauna locale, perché no anche le tante strutture private, sia mobili che immobili, che hanno dovuto confrontarsi oggi con il vastissimo incendio. E rimaniamo in qualche modo in argomento, perché parliamo di roghi, ma ci spostiamo ad Acireale, dove un principio di incendio al dismesso palazzo dell'Inam, in via Paolo Vasta, ha fatto emergere la presenza di occupanti abusivi che trascorrono solitamente le notti proprio all'interno della struttura, identificati e allontanati alcuni extracomunitari dalla Polizia di Stato. Sentiamo Salvo Cutuli. Un principio di incendio nella sede di dismessa dell'ex Inam di via Paolo Vasta da Cileale ha fatto emergere una situazione di estremo degrado, scaturita dall'occupazione dei locali da parte di un gruppo di cittadini extracomunitari che da mesi stanziano illegalmente negli spazi interni, trasformati in giacigli di fortuna per la notte, identificati e fatti allontanare dalle forze dell'ordine. Ecco come si presentano in locale delle immobili il giorno successivo all'intervento dei pompieri che hanno spento l'incendio di abiti dismessi, date le fiamme, presumibilmente dagli stessi occupanti scoperti e invitati a sloggiare. I condomini dei palazzi vicini da mesi segnalano la presenza dei cittadini stranieri che la sera scavalcano il cancello d'ingresso occupando uffici ambulatori del piano terra, trasformati in dormitori ed altre pertinenze di fortuna. Scoperta anche una saletta da pranzo con tavole e sedie, i servizi igienici, almeno quelli per esigenze di pulizia personale, allestiti con bacinelle. Poco distante una stanza latrina invasa da maleodoranti e escrementi umani che si propagano nei piani alti dei palazzi vicini, tra le proteste inascoltate dei proprietari. Dai primi riscontri investigativi eseguiti dagli agenti della Municipale intervenuti su segnalazione dei vigili del fuoco, si tratta prevalentemente di migranti in attesa del permesso di soggiorno, in qualche caso rifugiati politici sfuggiti a controllo delle autorità che avvivono di piccoli espedienti, i quali durante la notte trovano riparo e ricoveri di fortuna occupando casolari abbandonati ed edifici disabitati. Pare che il problema in città sia piuttosto diffuso e poco noto alle autorità competenti. Una fonte ci ha rivelato che altri edifici pubblici dismessi da tempo la notte vengono regolarmente occupati da senza tetto, barboni e cittadini stranieri. Il palazzo dell'ex Inam, la cui competenza territoriale è affidata ai vertici del PTA e presidio territoriale di assistenza di via Martinez, andrebbe tutelato con raccorgimenti in grado di bloccare efficacemente agli estranei l'ingresso nei locali di via Paolo Vasta, in primo luogo per ragioni ingienico-sanitarie, ormai a limite, in seconda analisi per il rischio dell'inglumità di quanti e non senza pericolo, scavalcono il cancello e invadono senza regole i locali di proprietà pubblica. Ritorniamo a Mascali, dove da giorni ormai si alternano turisti e bagnanti per la Due Giorni Ferragostana, alcuni rientreranno già oggi in serata, altri invece concluderanno questa settimana di ferie, la domenica successiva. Intanto per i gestori dei Lidi una prima occasione per tracciare un bilancio. Puntuale come ogni anno si ripresenta nella settimana di ferragosto l'annoso problema degli attendamenti che nella zona di Fondachello proliferano in maniera esagerata e sconsiderata. Nonostante i divieti di piantare tende emanate dalla Capitaneria di Porto di Riposto, il fenomeno ritorna con numeri sempre crescenti nei vari anni. Forse da parte degli impiantatori di tende non ci si rende conto dei rischi cui si va incontro quando si formano assembramenti così numerosi. L'igiene viene messa da parte, la sicurezza personale e collettiva va a farsi benedire e caso non isolato è facile che le risse nascano come funghi. Capiamo il desiderio e la voglia che le persone hanno di trascorrere un momento diverso ma diventa obbligo per gli addetti ai lavori prevenire il tutto creando per queste giornate dei luoghi deputati ad accogliere le tende garantendo a pagamento i servizi e così facendo si restringerebbe il numero dei fruitori. Fondachello d'altra parte nel mare ha una sua risorsa economica rilevante e l'estate è la sua alleata e poiché l'estate normalmente va bene a Fondachello sarebbe meglio poter organizzarla come si deve. E' andata la stagione quest'anno? Diciamo che per noi la stagione è andata non benissimo ma bene, non ci possiamo lamentare. Abbiamo avuto un buon afflusso di persone, ci sono persone turistiche e abbiamo visto che battono la zona quindi non ci possiamo lamentare. ci vorrebbero solo un po' di servizi in più ma del resto va bene così, siamo sulla buona strada. Comunque io ribadisco che Fondachello e tutta la nostra costiera è una zona sicurissima, controllata e attenzionata da tutti. Un'altra realtà che i gestori dei liti chiedono è quella di attenzionare da parte delle autorità costituite la polizia del mare in particolare per quanto riguarda poi il prelievo da parte della spazzatura che viene lasciata dentro i liti perché i gestori ci dicevano ancora che all'esterno funziona la raccolta differenziata mentre diventa più difficile poterla effettuare dentro i liti e spesso sono lo stesso personale dei liti che provvede a questo. Noi aggiungiamo che il mare di Fondachello è pulito ma ognuno di noi vorrebbe che lo fosse al massimo e vorrebbe delle grandi assicurazioni specie quando si tratta di vedere situazioni che non si vorrebbero vedere e questo già può essere un deterrente ad utilizzare al meglio tutto quello che Fondachello offre. Questa è la fotografia nella riviera Ionica, vediamo adesso come sta andando, come è andata Catania. La notte trascorsa a ballare sulla battigia il mattino del 15 agosto in spiaggia a crogiolarsi sotto il sole oppure a rinfrescarsi nelle azzurre acque della playa tutto esaurito oggi sul lungomare del litorale dorato della spiaggia catanese sold out sia i lidi che le tre spiagge libere cittadine dove nel loro insieme si sono riversati non meno di 80-90 mila persone. Quella della playa infatti è ormai spiaggia non solo per i residenti ma anche metaturistica per chi ha deciso di trascorrere il ferragosto nella parte orientale dell'isola buon viatico questo per confermare ancora una volta il binomio Catania-Città di Mare. Una garanzia di aggregazione, la garanzia di passare insieme alla propria famiglia, agli amici più cari questa serata che in effetti è proprio tradizione del catanese in tutta la Sicilia. Noi ci siamo visti più volte nel corso dell'estate, abbiamo sempre detto arriveremo al club, arriveremo al club, arriveremo preparati al momento della grande estate ferragosto. Devo dire che quest'anno c'è stato anche più afflusso rispetto all'anno scorso e molto composto, la viabilità ha retto benissimo e durante tutta la serata non c'è stato nessun disordine, una serata passata in allegria facendo i classici giochi che si fanno su spiaggia consumando i pasti, creando gruppo e cenando tutti quanti assieme. Una serata davvero piacevole e da ricordare. La spiaggia qui è davvero dorata, pulitissima. Possiamo dire che Catania finalmente si candida ad essere una delle spiagge più belle d'Italia? Devo dire che già gli organi preposti hanno dato la palma dell'acqua pulita in diverse occasioni, quindi il mare è decisamente pulito e poi spetta a noi gestori delle spiagge mantenere pulita la spiaggia e fare in modo che i servizi siano dati in maniera ottimale. Non solo famiglie, certamente la praia è un opposto per le famiglie, ma anche tanti turisti, anche dall'estero. Sì, devo dire, i turisti si sono trattenuti, hanno preso parte, si sono in qualche maniera aggregati a quella che è la tradizione e devo dire, contenti, sui volti si vedevano i sorrisi di questi turisti, quasi stupiti di quello che è il Ferragosto. Il Ferragosto siciliano? Sì, sì, lungo le nostre coste. Ferragosto ha dato tutto esaurito ovviamente non solo alla praia, ma anche lungo la scogliera catanese e poi via via risalendo per Acicastello e la zona Acese. Molti gli assembramenti notturni e forse ancor più quelli del Ferragosto mattina. Il rientro con le direttrici di traffico che dovrebbero animarsi a partire dalle ore 18. Bisognerà fare attenzione alla casella autostradale di San Gregorio per il rientro verso Catania e ancora in direzione Catania sulla strada statale 114 con nofile previste nella zona di Acicastello. Attenzione massima anche sull'autostrada Gela-Siracusa verso il capoluogo Aretuseo e poi dal capoluogo Aretuseo verso Catania sulla strada statale 114. Controlli nei chioschi di Acireale, Aspe e Guardia Costiera per le aree demaniali stanno verificando licenze e autorizzazioni sull'occupazione del suolo pubblico. Sono scattati già i primi provvedimenti di divieto di somministrazione ad un chiosco di Santa Tecla. Controlli a tappeto nei chioschi di Acireale da parte di Polizia Municipale, Aspe e per quanto di competenza dalla Guardia Costiera. Scattano i primi provvedimenti. Disposto il divieto di somministrazione di cibo e bevande al chiosco del Solarium Comunale dello Scalope Nisi nella frazione di Santa Tecla su disposizione della Capitineria di Porto che ha competenza nelle aree demaniali. Una ventina i baracchini presenti ad Acireale, frazioni molto attive specialmente nel periodo estivo. In principio servivano a SELS, limone e sale. Con la strada del tempo in alcuni casi si sono trasformati in veri e propri punti di ristoro con servizio di ristorazione e somministrazione di alcolici e superalcolici. La faccenda si fa seria. L'amministrazione ha dato in carico ad un esperto esterno di verificare la documentazione alla Polizia Locale e compito di controllare lo spazio in concessione e l'eventuale occupazione abusiva del suolo pubblico. Ai sanitari dell'ASP è demandato il controllo della salubrità dei luoghi e delle somministrazioni. Infine anche la Guardia Costiera farà il proprio dovere che ha esclusiva competenza degli spazi demaniali e in quest'ambito le sanzioni sono salatissime. Da mesi la questione dei chioschi ad Acireale è al centro di un aspro dibattito scaturito dalla disposizione comunale di chiudere il Lucio Sbar, frequentatissimo punto di ristoro di piazza Biagio Catania, decisione che ha fatto scattare proteste e manifestazioni da parte degli avventori, soprattutto giovani del posto, che avevano deputato questo luogo come punto di incontro e aggregazione in una città avara di spazi riservati ai ragazzi. Gli agenti della Municipale, incaricati dai controlli metro alla mano, hanno controllato minuziosamente i metri cubi occupati ed estensioni come tende, gazebo e tavolini. Le verifiche incrociate con le autorizzazioni rilasciate originariamente in caso di incongruenze potrebbero far scattare provvedimenti disciplinari, contravvenzioni e nei casi più gravi la chiusura dell'attività. Siamo alla fase iniziale dei controlli disposti dall'amministrazione grillina che sulla questione intende riportare ad una dimensione di legalità i chioschi presenti su tutto il territorio acese. Mettersi in regola, priva di finire nel tritacarne della burocrazia, l'unica strada per colibri e per i gestori. Viene definito uno dei tanti mali del secolo. La ludopatia per contrastarla la Regione ha predisposto un finanziamento sostanzioso di oltre un milione e mezzo di euro. L'esperto ai nostri microfoni dice bene se questo serve a fare prevenzione già in tenere età e sin dei banchi di scuola. E' da considerarsi un vero e proprio allarme sociale che si estende prepotentemente in maniera trasversale toccando una fascia di età ampia che va dall'infanzia sino ai 90 anni. E' la ludopatia un fenomeno in espansione anche in Sicilia. A tal proposito bene si inserisce il finanziamento di un milione e mezzo di euro che la Regione ha stanziato per la prevenzione della dipendenza da gioco e non solo quello d'azzardo e delle solitudini involontarie nella persona anziana. Fondi che serviranno a contrastare quella che ormai può definirsi una vera e propria patologia di condizionamento mentale tenuta d'occhio dalla PEI, l'associazione pedagogisti educatori italiani dovuta a pressioni sociali, prima fra tutte quella economica. Non a caso le ludopatie trovano terreno fertile dove vi sono condizioni svantaggiate tra le famiglie che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese o tra gli anziani spesso in profonda solitudine e spinti da un guadagno facile a giocarsi l'intera pensione. Ma l'attenzione va puntata anche sui giovanissimi che a tratti dei videogames potrebbero trasformare quella che è una semplice passione in qualcosa di più pericoloso. Questa è una di quelle definizioni che in questo momento è maggiormente presente sui media, sui giornali. Quando parliamo di ludopatie parliamo di una delle piaghe che sta affliggendo probabilmente la società del benessere. Non esisteva probabilmente una volta questo tipo di problematica sociale. A noi pedagogisti piace chiamarla condizionamento mentale dovuto alle forti pressioni sociali che la società odierna ci impone perché dietro alla ludopatia, quindi la malattia del gioco esistono dei forti interessi economici delle case che distribuiscono videogame ma anche di uno Stato che poi è il detentore del monopolio. Quindi da un lato è un comportamento da attenzionare però dall'altro lato non dimentichiamo che non possiamo relegare all'individuo l'unica responsabilità di questa condizione sociale ma sicuramente è un problema ambientale, un problema relazionale un problema di competenze emotive, affettive che purtroppo nella nostra società del benessere e dell'individualismo esasperato vengono sempre meno. È un problema anche trasversale, abbraccia fette di popolazioni ampie per quanto riguarda l'età. Esatto, una definizione più accademica ne fa rilevare l'aspetto del gioco d'azzardo quindi l'aspetto dell'azzardo che chiaramente è una delle componenti importanti perché sappiamo sfidare il destino, la possibilità di un arricchimento facile in un momento di crisi economica come quello che viviamo è una prospettiva particolarmente allettante però la ludopatia, quindi questa eccessiva dipendenza dei videogame è un problema che parte già dalla tenera età, dall'infanzia e poi finisce anche nelle persone anziane pensiamo a quante, visitando i centri scommesso o anche gli stessi esercenti della SISAL vediamo quante signore anziane investono il loro risparmio la loro pensione giocando e stando lì le ore aspettando il numero che esce dalla console il numero che gli garantirebbe la grande vincita perché è un problema legato sostanzialmente alla solitudine e c'è una solitudine nell'infanzia che è quella che magari vediamo nelle nostre pizzerie mentre i genitori chiacchierano e il ragazzino è relegato col tablet in un angoletto e non disturba, sta buonissimo anzi è bravissimo col suo touchscreen e si arriva fino al gioco d'azzardo fino alle scommesse, al gratte e vinci che viene pubblicizzato con lo slogan del fetto se non giochi non vinci però non sempre si può vincere quindi questi progetti che la regione ha messo in atto per prevenire soprattutto questo disagio sono sicuramente ben visti purché si intervenga non sul singolo non sull'individuo non sulla malattia o pseudotale ma si intervenga sul contesto sociale sul contesto relazionale già a scuola per favorire appunto un approccio emotivo di implementazione del patrimonio di competenza emotivo che ogni ragazzo dovrebbe avere il fatto che ci sia la promessa di una vincita anche abbastanza elevata fa presa su soggetti economicamente svantaggiati esatto e questa è un'altra delle componenti importanti se vediamo che le vittime principali di questo tipo di comportamenti sono coloro che appunto paradossalmente vivono una condizione disagiata economicamente ma che investono tantissimo del loro denaro proprio nella prospettiva della vincita della vincita per la vita però non è solo una deprivazione economica quella che ci preoccupa anche quella sociale è una deprivazione culturale perché è chi si chiude nella propria stanza nella propria dimensione con la propria console e rifiuta il contatto col mondo esterno La regione siciliana ha allungato ha prorogato le autorizzazioni di conferimento del secco nella discarica a valanghe d'inverno e non ci stanno i sindaci di Mister Bianco e Motta Sant'Anastasia Un colpo di mano sotto la canicola d'agosto così a Motta Sant'Anastasia e Mister Bianco giudicano il decreto regionale che consente all'impianto di scarica valanghe d'inverno ubicato proprio tra Motta Sant'Anastasia e Mister Bianco di proseguire l'attività di fatto la regione ha rilasciato alla società OICOS una autorizzazione una proroga integrata di ambiente che per dieci anni consente alla stessa società l'attivazione degli impianti che però il comune di Mister Bianco da anni contesta indicando illegittimità e grave errori che nel corso del tempo si sarebbero susseguiti al centro della protesta laia dunque l'autorizzazione integrata ambientale del 2009 contro la quale è in corso un procedimento giudiziario e che adesso viene prorogata con carattere transitorio non definitivo che autorizza però solo la frazione secca dei rifiuti solidi urbani a differenza di quella del 2009 per il sindaco di Mister Bianco però questo non basta per cui la battaglia prosegue ma non c'è dubbio un fatto gravissimo non ci sono le condizioni più per tenere in vita questa discarica che è illegittima e che non può continuare così già ci sono state delle condanne di primo grado che hanno tirato in palla e hanno condannato il presidente dell'OICOS e anche qualche funzionario corrotto e infedele e quindi tutto è illegale e noi ci battiamo perché finisca questa vergogna fino a questi giorni ci sono state conate di fumo di fumo di puzza di malodori che erano che fa a vivere quindi questa discarica poi è chiusa non debbano prendere atto tutti noi continueremo la nostra battaglia ricorreremo al tar o ovunque per imposare giustizia perché è un fatto insopportabile è da 40 anni che patiamo questa esistenza di una discarica a 500 metri dei centri abitati ma sindaco quali sono i prossimi passi che il comune di mister Bianco intende tutto il pugno del decreto questo è specifico già i miei avvocati sono al lavoro per presentare un ricorso per chiedere l'annullamento di quel decreto che è illegittima che si basa su falsi presupposti quindi e questo è il punto quindi noi continueremo la battaglia civile in mezzo ai comitati a una discarica ma soprattutto facciamo appello alla giustizia per ottenere noi a nostra volta giustizia anche Motta Sant'Anastasia viaggia sulla stessa lunghezza d'onda un manifesto assoluto di suo punto su questa ennesima decisione presa nei confronti dei cittadini del nostro comune che io rappresento al momento le posso dire che tutti i passaggi che mi hanno visti coinvolti come comune me in prima persona io ho sempre preso ufficialmente il mio parere che è quello contrario quindi ho portato pure in consiglio l'inconferenza dei servizi del consiglio comunale che era contrario se posso vedere il lato positivo un pochissimo atto di positività è il fatto che scaricheranno solo il secco che questa è stata una proposta che io lancio all'epoca a Crocetta che se proprio per forza doveva ancora stare aperta una discarica allora doveva assolutamente negare il conferimento dell'umido stiamo analizzando insieme ai tecnici nei dettagli con i miei collaboratori ed esperti per quanto riguarda la decisione che ha preso la regione di valutare eventuali iniziative naturalmente di ricorso ieri l'incontro dei sindaci dei comuni consorziati nella sede del consorzio del depuratore che sfocia a Mascali incontro tra i sindaci di Giara Riposto Mascali e Fiumefreddo per discutere dei problemi connessi alla gestione del depuratore consortile non per disfunzionalità dal medesimo ma per problemi burocratici visto l'annullamento della nomina a direttore dell'ingegnere Giuseppe Grasso il Tar con recente sentenza ha annullato questo atto avendo riscontrato delle procedure non lideari nella nomina pertanto è necessario provvedere alla nuova scelta perché il CDA essendo monco nei numeri non può operare al meglio inoltre nel corso della riunione voluta dal sindaco di Fiumefreddo Sebastiano Lucifora è stato preso atto di alcuni rilievi presentati dai revisori dei conti il problema del depuratore consortile diventa caldo nel periodo estivo essendo la zona avvocata al turismo banneare dove mare pulito o sporco fa la grossa differenza il problema più importante a nostro avviso e per quanto riguarda le cittadinanze in generale è la funzionalità del depuratore cosa ci può dire lei allora ad oggi il depuratore è funzionante in tutte le sue parti noi di fatto l'unico elemento che testimonia il regolare funzionamento del depuratore sono le analisi che facciamo mensilmente in autocontrollo sui reflui in ingresso e in uscita e i sopralluoghi che ci fa ARPA per il controllo del regolare funzionamento dell'impianto le analisi da gennaio 2018 fino alle ultime disponibili che sono giugno 2018 sono tutte regolari abbiamo avuto vari controlli di ARPA il il terzo non lo ricordo mi pare che era il 28 giugno poi abbiamo avuto il 9 luglio sono venuti sono venuti ieri in impianto e hanno attestato che tutto funziona regolarmente quindi direi che non al momento non ci sono problemi rilevanti ci sono stati abbiamo affidato peraltro ora di recente un nuovo servizio per lo smaltimento dei fanghi quindi abbiamo fatto un contratto fino alla fine di quest'anno per lo smaltimento e trasporto a rifiuto dei fanghi che stiamo regolarmente estraendo rieccoci studio non ci sono notizie dell'ultima ora e dunque vi lasciamo alle previsioni meteo per la giornata di domani ricordandovi che l'informazione di re tv è disponibile online al sito re tv.it su youtube e sulla nostra pagina facebook a voi tutti buon proseguimento di pomeriggio tempo bello soleggiato ma decisamente più fresco lo vedete nelle previsioni meteorologiche per la giornata di domani venerdì 16 agosto il cielo sarà sereno e soleggiato su tutta l'isola i venti leggermente moderati i mari leggermente mossi uno sguardo adesso alle temperature si abbassano sia i valori minimi che massimi nel capoluogo etneo previste rispettivamente 22 di minima e 34 di massima la temperatura più alta nel capoluogo aretuseo mentre quella più bassa adenna con 14 gradi centigradi a